E adesso un attore bellissimo con gli occhi azzurri e di grande talento in squadra antimafia è l'ispettore Carlo Nigro con noi Giulio Berruti Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, benvenuti Come stai? Come stai? Come stai? Giulio Berruti Bene, grazie Dove metto? Io di qua, tu di qua Benvenuto Giulio, è la prima volta che vieni a Verissimo Allora mettiti comodo perché il 27 settembre sarà un giorno importante Non tante Perché tu? Faccio 22 anni 32 Ed è lo stesso giorno poi anche di Francesco Totti Sì, lo so, lo so Che cosa? Io però sono juventino questo Tu sei juventino Quindi diciamo che è un romano atipico Un romano atipico Io però ti ho fatto un regalo Visto che anche se non si fanno i regali in anticipo Io poi non avevo occasione di rivederti Per cui ti ho fatto questo regalo per il tuo compleanno Tutta la tua carriera Perché tu hai fatto un sacco di cose Aiuto Aiuto E c'è anche un po' di vita eh Attenzione Sono qui? Sono imperfetto E nella vita qualche volta ho deluso Sì, sono stato egoista Ma a 30 anni ho imparato a dirmi stai sbagliando con grande serenità Giulio Berruti è così Un ragazzo che sa guardarsi dritto negli occhi Se diciamo E aspetitive Il trasferimento Non era l'in o waiting Grazie a tutti